Bentornati su MyFootballJersey. Finalmente vediamo la seconda maglia del Paris Saint-Germain per la stagione 2023-2024 in edizione Player. Grazie per la visione! La maglia non è niente male, la maglia bianca con una bella sfumatura, comunque del PSG è sempre una maglia che ha un certo fascino. Il costo lo vedete qui sopra per una versione Player fatta così bene, veramente molto basso. Per ordinare la maglia vi ricordo che trovate tutti i dettagli qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo diventa ancora più basso. Ora vi lascio la parte finale, prima però iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia Large della versione Player.